Io faccio l'allenatore, l'allenatore vive alla giornata, ma questo l'ho sempre fatto dal primo giorno in cui mi sono seduto su una panchina. Io non penso mai al domani, io penso all'oggi, non penso a quello che succede domani. Perché io domani ci posso essere e dopo domani non ci posso più essere. Quindi io vivo il mio mestiere, il mio lavoro, come se oggi fosse l'ultimo giorno, cercando di dare il massimo. Sante parole ed il perché è chiaro, l'allenatore paga per tutti, storicamente, così, ovunque, è così. Tranne che a Davellino, a dire il vero, dove a pagare per la debacle dello scorso anno, è stata quasi l'intera squadra, ma non lui. La media di sei sconfitte nelle ultime sette partite, includendo ovviamente la coda dello scorso anno, racconta di un percorso disastroso. Bisogna dirlo fuori dai denti. Uscire sconfitti da febbraio ad oggi contro Viterbese, Francavilla, Picerno, Turris, Monterosi e Latina, con la sola eccezione della sfida contro il Foggia, sarebbe bastato a chiunque per esonerare un allenatore che, tra le altre cose, è ormai in rottura con la piazza. Qui però il caso è singolare. Centra certamente il contratto pesante e vincolante, centra un passato importante, centra un piano che è nella testa di Perinetti e che non può e non deve essere messo in discussione alla prima giornata. Il perché è semplice. Il direttore, che tanta fiducia ci ha ispirato, avrà calcolato anche questa eventualità. Avrà preventivato una partenza a rallenti e i mugugni della piazza si sarà, però, dato un tempo. Lo sa lui e lo sa Rastelli. La prima è andata. Lunedì c'è un altro banco di prova. Il fallimento non è contemplato, ma se dovesse arrivare una sconfitta, la riflessione si riaprirà. A quel punto l'inevitabile diventerà possibile e la poltrona di Rastelli scricchiolerà ancora più di oggi.